Sicurezza partecipata con i cittadini e questo un po' il led motive del saluto e dell'arrivo a Siracusa del nuovo questore Roberto Pellicone. Il coinvolgimento dei cittadini, il coinvolgimento anche di una massima prossimità da parte della Polizia di Stato proprio per provare a andare incontro a quello che serve appunto alla comunità ma soprattutto contrastare il malaffare. La sicurezza secondo me è un qualcosa che si costruisce giorno per giorno e in questo ambito i cittadini svolgono un ruolo fondamentale perché la collaborazione sicuramente facilita quelli che sono i nostri compiti. Quindi come ripeto la questura aprirà ulteriormente le porte ai cittadini e anche la mia porta sarà aperta ai cittadini che intendono avvicinarsi a noi. Anche le associazioni possono svolgere un ruolo determinante, un ruolo importante per fare anche da tramite con la collettività. Quindi benvenga chi ha voglia di dialogare con noi. È una bellissima giornata, è un modo migliore per iniziare questa avventura, questa nuova sfida che mi attende a Siracusa. Io sono molto contento dell'incarico che mi è stato affidato, un incarico veramente impegnativo che affronterò con grande impegno e con grande entusiasmo. So di trovare una struttura molto ben organizzata e cercherò di proseguire l'ottimo lavoro svolto da chi mi ha preceduto. Ho un'ottima squadra di ottimi funzionari, mi affronterò ovviamente la collaborazione di tutte le donne e degli uomini della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile e cercherò un po' di comprendere quali sono le criticità che è presente nel territorio per cercare di incidere nel modo migliore possibile.